Ciao, mi chiamo Ginevra Ultimamente ho fatto moltissimi video in cui copio una ragazza famosa su Instagram e cerco di far venire le mie foto uguali, identiche alle sue Però oggi non copierò le foto del personaggio che vedete nel titolo di questo video e probabilmente per il quale avrete aperto questo video Anche perché sennò tutte le foto verrebbero così E poi ce la faccio Ok, basta Mi chiederete voi, cosa significa quello che hai scritto nel titolo? È un titolo clickbait? Non lo è Premetto che io seguo Luizio da pochissimo tempo Sapevo chi fosse però non l'ho mai veramente seguito Non ho mai guardato i suoi video o cose del genere Andando a vedere il suo profilo Instagram Mi sono accorta che un po' di tempo fa avevo pubblicato questo video Calcerò la testa da solo Ditemi quale influencer è capace di farlo Nessuno Lui dice di essere l'unico in grado di farlo Ebbene, non è vero Come d'altronde un sacco di altre cose Volete vedere? Anch'io riesco a calciarmi la testa da sola Riesco a stare in equilibrio sulla testa So fare l'onda con la pancia So far cadere una penna dentro il suo tappo So buttarmi per terra nel modo strano che fa lui So stare in piedi con i piedi a 180 gradi E in più una cosa che lui non sa fare Che però scambio con il suo fischiettare senza muovere le labbra Che quello proprio non mi piace Ci ho provato in tutti i modi E che so fare l'onda con le sopracciglia Insomma, questo video era solamente un video In cui volevo mostrarvi tutti questi talenti Che ultimamente mi sono accorta di avere E appunto era anche per dire che sì Luis ha mentito E quindi andate sotto il suo video A scrivere No, lo so fare anche Ginevra E taggatemi su Instagram Basta detto questo Non pensate che io stia provando a copiare Luis Bla 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 Solo che tutti guardando le sue cose Dicono Wow, ma come fa? Oh mio Dio In realtà esistono in questo mondo Altre persone strane come lui Che riescono a fare certe cose Mi è compresa purtroppo Fatemi sapere nei commenti Se anche voi sapete fare qualcuna di queste cose E appunto se siete super fan di Luis Non vi arrabbiate Non... Cioè era un video scherzoso ovviamente Non volevo di... Cioè non volevo offendere Luis Anzi mi sta simpaticissimo Cioè secondo me è veramente un genio E ovviamente il fatto che io sappia fare queste cose Non significa che io pensi di essere come lui E ovviamente Spero che questo breve video vi sia piaciuto Ciao 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 No day.